Ci occupiamo in questa puntata di Senza Bavaglio dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie Taranto con riferimento ai voli civili, ai voli passeggeri. Beh, abbiamo un aeroporto a cui hanno spezzato le ali. Bisogna capire perché, perché questi voli civili non decollano. I motivi sono tanti. C'è da dire un fatto però, che la Regione Puglia con il suo governatore Emiliano è stata molto esplicita. Ha detto, ha detto Emiliano, fermarestando la destinazione dell'Arlotta come polo aeronautico, fermarestando l'aerospazio, però l'Arlotta, per l'Arlotta non c'è alcuna preclusione per quanto concerne i voli civili. Se ci sono delle compagnie pronte, beh, vengano, non ci sono problemi. Diciamo che Emiliano ha in un certo qual modo messo con le spalle al muro aeroporti di Puglia, perché aeroporti di Puglia è stata sempre fredda, contraria ai voli civili per l'Arlotta. Nel momento in cui il padrone, tra virgolette, dice, è così ci devono essere i voli civili per l'Arlotta, amen, aeroporti di Puglia deve ingoiare il rospo, se ne deve fare una ragione, e deve piegarsi. Ed ecco che in questo momento esplodono le altre realtà, in particolar modo quella di Brindisi, perché è ovvio che Bari e Brindisi hanno una situazione di monopolio, e la crescita turistica, anche con riferimento ai flussi, appunto, di voli, fa comprendere come un'apertura dell'Arlotta produrrebbe minori entrate per Brindisi, in particolare che è vicina appunto a Taranto. E allora ecco la levata di Scudi, ecco l'esplosione di varie forze politiche, di segno opposto del Brindisino, penso per esempio a MDP articolo 1, la quale dice andate a vedere il sito di aeroporti di Puglia, andate alla voce aeroporto di Taranto e troverete varie destinazioni, traffico cargo, test bread e quant'altro, la realtà dei voli senza pilota, cosa unica in Italia e in Europa, però dice, vedete, non si parla di voli civili. Quindi articolo 1 di Brindisi, forza di estrema sinistra, dice i tarantini si scordassero appunto i voli civili dell'Arlotta, per l'Arlotta. E sulla stessa riga abbiamo visto anche una parte di Forza Italia, di Brindisi, non il senatore Vitali, ma mi pare il capogruppo al Consiglio Comunale di Brindisi, il segretario cittadino, i quali ancora una volta, quando Emiliano ha aperto la possibilità per i voli civili, anche qui sono letteralmente, si sono imbizzarriti i forzisti brindisini, e varie forze politiche hanno anche detto il sindaco di Brindisi deve battere i pugni per far sì che l'aeroporto di Brindisi non venga sottovalutato, non venga così ridimensionato alla luce dei voli civili all'Arlotta. In pratica si auspica che il sindaco di Brindisi faccia le barricate contro i voli civili all'Arlotta. Questa è un po' la situazione. A questo punto però io dico, con tutte le difficoltà che ci sono, con tutti i bastoni tra le ruote che Aeroporti di Puglia, che Brindisi, hanno cercato di mettere, hanno cercato di mettere, beh, ora abbiamo noi il pallino in mano, nel senso che se ci sono le compagnie il problema non si pone, e qui c'è l'inghippo, perché purtroppo finora si sono presentate compagnie fantasma, compagnie che millantavano chissà che cosa, però poi all'atto pratico queste compagnie sparivano nel nulla. E proprio in questi giorni vi è stata la comparsa di una compagnia sarda che pare promettesse voli per Fiumicino, Pisa, Bologna, Milano Malpensa, Tirana addirittura, e su questo argomento è intervenuta molto l'associazione Magna Grecia, di Taranto. Però alla fine, bisogna dirlo, Aeroporti di Puglia ha detto sì, ma queste proposte che sono state fatte da questa compagnia devono avere i crismi di una proposta commerciale, devono avere tutte le caratteristiche corrispondenti ad una proposta in termini di volo. non è che stiamo parlando di andare a comprare un chilo di pasta o un chilo di frutta e si tratta, ci devono essere dei requisiti tecnici precisi, una proposta deve avere determinate caratteristiche, determinati elementi, determinati crismi, che questa compagnia non ha prodotto. E allora, diciamocela tutta, troviamo le compagnie. Certamente deve essere un compito di Aeroporti di Puglia, Aeroporti di Puglia viene anche pagata per questo, profumatamente pure, però io dico, anche sul territorio, la classe imprenditoriale tarantina facesse ferro e fuoco per trovare compagnie, per stimolare le compagnie a investire sull'arlotta, perché a questo punto nessuno sta dicendo che per l'arlotta non ci saranno mai voli civili, però devi avere la compagnia. E allora, visto che finora sono venute compagnie fantasma, fantomatiche, che forse chissà cosa volevano avere un minimo di notorietà, ora cerchiamo con gli imprenditori del territorio di individuare delle compagnie, o anche, o anche, meglio ancora, cosa molto più forte e più incisiva, un input della Regione Puglia di Emiliano su Ryanair, per esempio sulle compagnie low cost. Beh, Ryanair prende tanti bei soldini dalla Regione Puglia, e allora dire, cara Ryanair, tu devi diversificare il tuo traffico e devi investire, devi fare, dico per dire, due voli al giorno, uno per Roma e l'altro per Milano. Puoi investire in questo modo. Ecco, dico, sono delle possibilità, dico Ryanair come per dire compagnie low cost in genere, dove magari è più facile, allora ci deve essere l'input della Regione, di aeroporti di Puglia, sulle singole compagnie. A questo punto, sì, proprio come atto di indirizzo. Insomma, c'è questo fermento di associazioni pro aeroporto, ce ne sono forse una decina, una quindicina, a Taranto, beh, a questo punto però concretizziamo. Concretizziamo perché se prima era buio pesto, perché non si era mai pronunciata, non era mai stata espressa la possibilità, la volontà di aprire eboli civili, ora Emiliano è stato chiaro. Che poi, che poi, qualcuno dice, e probabilmente avrà anche ragione, Emiliano vuole farsi campagna elettorale a Taranto per, attraverso l'arlotta, promette solo fumo, potrebbe essere anche così, Emiliano è un politico, però, però, mettiamo a questo punto Emiliano con le spalle al muro, tra virgolette, nel senso che se Emiliano ha promesso i voli civili, allora a questo punto si presenta la compagnia Pinco Pallino e dice, io sono qui con tutte queste caratteristiche, con queste referenze, caro Emiliano, sono pronto. Ed Emiliano, ovviamente, non potrà rimangiarsi quello che ha detto. Ma troviamo le compagnie. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.